E buongiorno a tutti amici miei e benvenuti in questo nuovo video In questo momento mi trovo sotto casa mia e mi appresso ad andare all'ultimo giorno del Comic Con E si tiene ogni anno, periodo aprile maggio, nella mostra d'Oltramare Quindi si è fatta una certa e se non mi muovo rimango in fila fino a dopo domani Dopo aver divarato il mio cornetto insieme al mio compagno omonimo Siamo andati verso l'ingresso della mostra Dove ovviamente mi buttò le pazze e credo di che ha fatto E secondo me sotto sotto liberato e un pochino ha preso spunto dalle fie del Comic Con per creare Indoor Street E se proprio voleva fare il pezzaccio lo poteva chiamare pure un ungo allanate Perché secondo me con questo titolo avrebbe spaccato ancora più Ragazzi siamo entrati nel Comic Con E' il Cosplay in Viore del Comic Con Seconda messa Che cosplay del cazzo Al Comic Con ci stanno un sacco di scoppiati E poi se ne va C'è una batteria di print Tu non la portai mai con un microonde o un DVD Ti serve qualcosa? Molto bene, molto bene Vi teniamo compagnia fino alle 13 Mancano proprio più di 10 minuti Ragazzi il ritorno di lomba Qualcuno se lo ricorderà Qualcunino se lo ricorderà Se lo ricorderà Se lo ricorderà Ti sei ripreso Ti sei ripreso tu Ma io sto fuso Stai fuso? Sì Mamma Panino Specco e salato Un po' troppo malato Giudica E' buono Ma che buono Ma non capisci niente Non capisci niente Pronto per fare l'unboxing del terzo panino Ragazzi se è salame Ci esulta Se non è salame Pagliamo le lacrime Pagliamo le lacrime Dici non è giusto Pagli dicendo non è giusto O panino al salame O panino al sale Ma poi c'è un pezzo che si è dato All'estate Ma poi c'è un pezzo Ma poi c'è un pezzo Guardate là si vede proprio il sale Come possiamo bene vincere dal video Quest'anno si portava molto anche la mela caramellata Con cosparsa di zucchero a velo 100% naturale Furfora ovviamente è tutta italiana Ma poi c'è un pezzo di zucchero a velo 100% naturale Vuoi lavorare con me Vieni che ti si è appollaiato qua C'è un pezzo che si è appollaiato qua C'è un pezzo di zucchero a velo 100% naturale Non mi sto a zappare Ma dove sono da andare? Si paga il euro per partecipare Si vince una spada Il senso di ritirare La sacca dell'abbonamento Mettendo come punto di riferimento Dei cognomi e non le lettere Cioè come facevo a capirlo io? No, non so Mettiamo Ma che brava Ma che brava È bravissima È bravissima Quello che sta a fa' Un euro? Ho un dito in un euro Ho un dito in un euro Ho un dito in un euro Presento, ti presento Allora, sono Risi Miranda È una pagina su Facebook dove sto pubblicando tutte le foto del Comicon E si chiama Miranda Fotografer Seguite 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 E ci sono veramente tops Che possano trovare la roba da Softair E ci sono le repliche Delle ermi vere Ok, adesso usciamo dalla zona misare Andiamo a fare l'ottocento Andiamo a fare l'ottocento Mancano... Quanti minuti sono alla fine? 10 minuti 10 minuti 10 minuti alla fine del Comicon Ci apprestiamo a fare l'ultimo giro all'interno Per cercare offerte stracciate E roba che ci lanciano addosso Speriamo che sia così Cacciato Che ha incertato la Juventus Questo è da parte di Sabrina Oggi ci siamo andati molto piano E non ancora fin dalla giornata No, te la lanciano da giù 3 Nooo Calcio Calcio Vai, mi raggi, vai, è l'ultima sfera Ho vinto un guai Calcio, hai fatto 100 E' pronto? 1, 2, 3 Vai, calcio, vai Oh Posso provare io? Vai, vai Vai, vai 1, 2, 3 1, 3 Un mauvais Fai una ricompensa Eravano compagni di fasi Non le facceranno Non le facceranno Vai, te la faccio io Fai una stupetina e cioccolatina ahahahah ma cara posso stare in un'altra cosa non stagli pensare a fare una cosa ma si farà a me ne è grava veramente ma non è scherzo ma non è scherzo scherzo ma non è 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 scherzo ragazzi ore 8-20 anche questa giornata è finita e ci vediamo al prossimo video le caramelle il comicon sta finendo cosa ne pensi è finita la sezione 4 giù io picchierei la gente dunque ragazzi doveva finire le 7 siamo alle 8-20 e siamo ancora qua dentro c'è anche una redbull c'è anche una redbull c'è tutta la finita cos'è? quando è gratis e migliore? buono ma buono mi e gecca gestendo le angurie come sono? un po' salati il momento in cui è gratis va bene al dente no caramelle a merda sono talmente bassa non vorrei dire ma sap amico che è ok io non vedo l'ora di tornare voglio tornare addio addio amici addio addio amici comunque non voglio portare a lungo questo video perchè mi sono scocciato quindi ci vediamo al prossimo video ragazzi di mettere questo video sul tuo canale comunque ci vediamo al prossimo video adesso torniamo a casa e non andrò a montare il video e uscirò nuovamente però da domani domani mattina presto si va a studiare quindi pomeriggio di allenare guarda il cazzo mondo su video ragazzi un bacio da comicon 2018 è tutto linea